Vogliamo dimostrare che questo grande malato deve essere veramente guarito e iniziamo con le scuole, proprio con il coinvolgimento delle scuole e i ragazzi parteciperanno alla pulizia del fiume in questa iniziativa splendida di cittadinanza attiva che Lega Ambiente ha organizzato in tutta Italia. Dagli aspetti della depurazione alla gestione dei rifiuti un problema che non può essere imputato a singole realtà o a singole responsabilità ma che deve essere finalmente affrontato in maniera sistemica quindi coinvolgendo appunto il problema della depurazione ma anche finalmente la legge sulla gestione sui fiumi e la possibilità dei contratti di fiume che sono oltremodo quindi una forma di programmazione volontaria e strategica che coinvolge anche i soggetti della cittadinanza. E questo è un primo passo per riportare il fiume alla cittadinanza per non vederlo come un elemento avulso rispetto alla quotidianità e all'area urbana ma come una parte fondante della città e un'occasione quindi di rilancio per la città. Attivare sempre più percorsi di cittadinanza attiva che rendono i nostri ragazzi veramente veri cittadini del futuro perché dall'educazione si parte e quindi è essenziale questo livello fondamentale per far crescere in modo sempre più consapevole sempre più da protagonisti veri i nostri ragazzi che siano veramente all'altezza del loro cuore e della loro intelligenza e salvaguardare il pianeta anche in linea con tutte le provocazioni che ci vengono è fondamentale. Non ultimo anche l'enciclica del Papa per cui ce lo richiamano da tutti i punti di vista e quindi il livello della scuola è assolutamente presente e noi ci siamo.